La Federal Berghis Sardegna interviene con una nota sulla proroga decisa fino al 31 dicembre 2017 della legge sull'edilizia, il cosiddetto piano casa, varata dal Consiglio regionale e chiede all'Aggiunta Pigliaru che l'Assemblea approvi una legge quadro per il settore edilizio che punti su sostenibilità ambientale ed economica. La proroga della legge denominata piano casa ci lascia al punto di partenza scrivere una nota il Presidente dell'Associazione Paolo Manca. Nessuno si prende l'impegno di investire o di avviare nuove attività con un lasso di tempo così breve e con troppi vincoli sulla riqualificazione dell'esistente. Chi doveva investire lo ha già fatto col precedente piano casa, scrive Manca. Ora bisogna mettere in fila alcune esigenze specifiche sul versante recettivo turistico per sostenere l'ammodernamento delle strutture e la creazione di nuove. Abbiamo bisogno di alberghi più sostenibili ma la sostenibilità non può essere solo quella ambientale ma anche economica. Altrimenti il rischio di incentivare la creazione di cattedrali nel deserto o progetti imprenditoriali non in grado di reggersi in piedi. La Federalberghi ricorda che in Sardegna operano oltre 900 strutture alberghiere e di queste almeno la metà ha bisogno di essere riqualificato per offrire nuovi servizi ad una clientela sempre più esigente e che non si accontenta più dei soli lettini e ombrelloni nella stagione estiva. Turisti che vanno alla ricerca di centri benessere, palestre, sale e congressi, servizi di trasporto sostenibile.